al contrario vai, tira, tira, vai, bravo bello allora sono arrivato io ce l'hai fatta quale era questa qui? è un po' balorda, sì, però perché ci sono quei sassi qua, però l'hai fatta bravo ciao, vado là a vedere il cinema di là facile? si entra da qua ingresso qua per lui, lo stiamo il cinema di qua è già uscito lì ti ha già rischiato vabbè, possiamo perdere scendi, te che sei bravo la fai stretta e sali da qua quella curva qui? si dentro qua? si dove vuoi, dove vuoi dove sembra più comodo ok ok poi sali dritto noi che era facciamo di là facciamo la curva giù di qui giù di qui vieni là e fai subito vieni là e fai subito vediamo questa eh 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 la prumetta lì è stretta cazzo, stretta e cosa l'ha spostata un po', non lo so allarghiamo un po' qua sopra eh è salito da qua eh, però l'ha spostata un po', ha spostato il dietro allarghiamo un po' questo questo viene più largo si, vorrei allargarsi qua si, era solo per far capire che si, si no, bisogna arrivare, se si riesce ad arrivare qua con il davanti si, se vai su di là è meglio senza stare qua, non lo spigolo mh questo è solo per far capire dopo certo ecco, non prendere questo arrivare fino a qua, boh e lui l'ha spostato un po' il dietro ah, cambio moto minchia, l'ha convinto sta fantastico e lui l'ha un attimo in pausa perché ha preso giù una pastiglia o qualcosa un po' fuori forma anche ah, che via ah 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 insomma proviamo un po' strattina ma magari tu ti senti che non vada più giù? vai lui mettisti al confronto 0,5 e ti senti davanti non dietro poi ti rendi così sperita no 0,5 ce l'hai su 0,5 dietro ostia 1, poi questo bagnato qui sgonfi un po' Marco 0,5 davanti davanti che sarà 1 ora 0,5 davanti che è un po' di caldo 0,5 davanti che è un po' di caldo vabbè ma lui poi è albio ma lui è benissimo 2 volte lo più chiesto vabbè ma lui è un po' di caldo se la sgonfi c'è più trazione anche quelle salite la vedi che magari è anche per quello eh però in terza va via dritto eh sì terza è medio però un po' troppo gonfia sì vuol dire la corbetta qua vediamo un po' eh va tirata eh sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, piano. Ormai mi ammazzo. Però a zero. L'ho rischiata però, mi sto scappando via. L'ho rischiata. 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 No, vabbè, uno quando è spostato. Qua si è andato. L'ho rischiata. Eh, ma se non la spostissi per me non va. A non spostarla è dura. Perché non so se si riesce. A spostarla basta poco. Riprova, riprova a spostarla. C'è da imparare anche a spostare. Andre. Bello. Oh, cazzo, quel buccino di merda. Asti, sceso giù un po' davanti. Cazzo. C'è da qui, eh? Mmh. Peccato, avevi spostato bene. Dai, riprova. Non ho scaricato. Riprova che ce la fai. Sì. C'è da che quella là. Dopo facciamo... Un po' il cazzo. Non lo diamo. Allivo. Va bene. Lasciala correre lì, bravo. Un po' di cazzo. E allora? Allora. E allora? E che non ci vuole? Micchia. Faccio vedere che questa, così meno un po' possiamo fare tutte e tre. Preciso, Michele. Aspetta che arrivo, va. Bene. Lasciala correre lì. Tieni la, tieni la. Arca. Dai, vai, dai, dai. Sorry. Tieni. Ahahahah. Behh. Tieni.